Borgo di origine romana, Cissone domina una valletta ricca di boschi e sentieri. Questa della spanocchiatura è una delle vecchie tradizioni di Langa che serve alla popolazione per aggregarsi, per incontrarsi tra persone, giovani e meno giovani e soprattutto per dare quello che è il sano senso della collaborazione tra le varie cascine. Cissone custodisce l'antica tradizione dei saperi contadini delle Langhe del Roero legati alle stagioni e ai tempi di ogni lavoro della terra e ricorda ancora le tradizioni secolari di queste campagne ricche tra l'altro dei noccioleti che regalano la famosa nocciola tonda e gentile delle Langhe.